Siamo con il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Luigi Abate, per parlare di amianto. Ed è una storia che parte da lontano, una storia personale, Luigi, perché hai perso il tuo papà a causa dell'amianto, da quell'evento nefasto all'evento di oggi, perché grazie a Lona si parla della situazione attuale di Taranto. Come nasce questa opportunità di parlare di questa, purtroppo, malattia silenziosa, questo killer invisibile? C'è innanzitutto una vicenda personale tragica. Mio padre è sotto ufficiale di marina, motorista navale, 17 anni e 7 mesi di imbarco, su navi che sono state riconosciute proprio dalla marina militare come portatrici, pesantemente portatrici di amianto. Io ho perso mio padre tra le mie braccia, quindi posso certamente testimoniare quella che è la sofferenza di quelli che sono i familiari, oltre che le vittime del dovere stesso, vittime del dovere per il cui riconoscimento c'è una causa dinanzi al Tribunale del Lavoro in corso, per quanto riguarda mio padre. Ma al di là di questa vicenda personale, tutti conoscete il mio impegno per l'ambiente, le battaglie ambientali, la difesa della salute e della vita prima di tutto. In questa mia nuova veste di Presidente del Consiglio, questo è il mio primo battesimo istituzionale, farò di tutto affinché il Consiglio Comunale, per quelle che sono le sue competenze, facendo appello ovviamente al senso di responsabilità e di sensibilità dei consiglieri tutti, di maggioranza e di minoranza, cosa della quale non dubito assolutamente, dovremmo porre in essere, per quelle che sono le competenze del Consiglio Comunale, tutti quegli atti che tutelino il bene salute, il bene vita, dinanzi, soprattutto facendo un riferimento al caso specifico, alle problematiche dell'amianto e che poi creano quei drammi sanitari. Questa amministrazione, già con il programma Ecosistema Taranto, sta ponendo in essere tutta una serie di atti finalizzati alla tutela dell'ambiente. Già per quanto riguarda la problematica dell'amianto sono stati compiuti numerosi interventi, quindi c'è tutta un'attività amministrativa e quindi il ruolo del Consiglio Comunale, da me presieduto, di proseguire su questa traccia. Ripeto, il bene salute è un bene primario e non conosce colori politici.